Gentili telespettatori, buona giornata. L'inflazione ad ottobre è all'11,9%, cioè siamo al 12%, balzo dal 8,9% al 12% su base annua. E' il record dal 1984, in forte crescita alimentari ed energia. I problemi sono molteplici, perché con un'inflazione al 12% le pensioni a gennaio vanno alzate del 12%. E dal 9 al 12% si era pensato circa 10 miliardi, col 12% si va verso i 13-14 miliardi di aumento delle pensioni. Ce ne sono 4 miliardi in più con questo dato che il governo non aveva contabilizzato nella manovra. La manovra che doveva essere da 40 miliardi e adesso diventerà probabilmente da 45 miliardi. Poi il fatto è che semplicemente ce n'è meno della metà. Secondo così le stime dell'Istat preliminari si arriva intorno al 12%, per l'esattezza, l'11,9%. Solo ad ottobre c'è stata un'impennata del 3,5% su base mensile. Il dato precedente era 8,9, 10,9, 11,9. C'è un aumento, no, 8,9, 9,9, 10,9, 11,9, un aumento esatto del 3%. Per vedere un valore uguale a questo bisogna risalire a giugno del 1983, quando si registrò una variazione del 13% in più. Ma quelli erano gli anni del boom economico, l'inflazione saliva perché c'era proprio un boom economico. Ecco, oggi non è così. Oggi l'inflazione sale a fronte di una probabile recessione in questo ultimo trimestre. E sono due condizioni diametralmente opposte. L'inflazione non è che sale perché c'è un boom economico, ma perché c'è un problema di stagnazione dell'economia e una forte crescita dell'inflazione e pertanto è un qualcosa di distruttivo e non di positivo. Perché questa accelerazione dei prezzi, intanto dal più 44,5 di settembre, l'energia, è passata ad oggi a più 73,2%. Così si approfondisce nella nota i prezzi dei beni alimentari. Pensate un po', i beni alimentari su base anno ad all'11,4% in più siamo al 13,1% in più. Cosa vuol dire? Che una spesa di 100 euro al supermercato oggi uguale a quella di un anno fa costa 113,1. Ogni 100 euro ci sono 13,1 euro in più di inflazione. Pertanto abbiamo detto che i beni energetici passano da più 44,5 a più 73,2. Regolamentati da più 47,7 a più 62,1. Non regolamentati da 41,2 incremento al 79,5. Crescono anche i prezzi dei beni alimentari, abbiamo detto. Cresce anche la voce di altri beni, da più 4 a più 4,5. Che c'è qualcosa che frena, pensate un po'. Frenano solo, ma frenano, non è che vanno indietro. Frenano, cioè crescono meno degli altri, solo i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Dal più 5,7 arretrano al più 5,1. Pensate. Un incremento enorme che però rispetto agli altri, ebbè, dicono, caspiterino, stanno arretrando. Su base annua accelerano i prezzi dei beni. Da più 12,5 a più 17,9. Mentre rallentano di poco quello dei servizi, da più 3,9 a più 3,7. Si amplia in misura marcata, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi prezzi. L'aumento congiunturale è dovuto prevalentemente ai prezzi energetici. In totale abbiamo più 28,4% i beni energetici, i quelli energetici non regolamentati più 28,3, alimentari non lavorati più 2,4, alimentari lavorati più 1,7, beni non durevoli più 0,7. Parliamo di questo mese. In calo, invece, a causa per lo più di fattori stagionali, i prezzi dei servizi ricreativi, culturali, e per la cura della persona, dei servizi relativi ai trasporti. Meno 0,8%. Abbiamo nel carrello della spesa più 6,5% della frutta, più 25,1 le verdure. Eh sì, più 25,1 le verdure. C'è un calo dei volumi acquistati, ovviamente, di frutta e verdura del 9%, rispetto allo scorso anno, ai minimi da inizio secolo. I minimi da inizio secolo. Ovviamente, più 25 frutta e verdura, meno 9% gli acquisti. La ricaduta sulle aziende, ovviamente, si fa sentire, perché ci sono anche i danni provocati dai cambiamenti climatici, raccolti tagliati, rincari di ogni tipo, riscaldamento delle serre, carburanti, macchinari, concimi, fertilizzanti, le spese raddoppiate, gli imballaggi triplicati. e poi, ad esempio, le plastiche, le retine, più 70%, carta per bollini di etichette, più 35%, addirittura il cartone ondulato, sapete quello delle cassette della frutta, quel cartone tutto ondulato, di quel grigio chiaro, più 60%, c'è caspiterina. L'inflazione significa che per una coppia con due figli la stangata complessiva è di 4.000 euro. Arriviamo a 4.059 euro su base annua, di cui 2.219 per spese di abitazione, elettricità e combustibili, 1.073 per il solo carrello della spesa. Ad affermarlo è il presidente del UNC, Unione Nazionale Consumatori. Per una coppia con un figlio la spesa aggiuntiva è pari a 3.770 euro. Una famiglia media ha un rincaro di 3.324 euro. Per poi a parlare di famiglia con tre figli si va a 4.561 euro di rincari. Nel caso di coppie con tre figli poi si aggiunge un'ammazzata record di 1.240 euro nei 12 mesi e in più degli altri esempi. Beh, arrivederci a tutti e grazie.